Tra i 50 e i 60 mila siciliani che lavorano, studiano, vivono nel settentrione d'Italia faranno rientrano nell'isola per ricongiungersi alle proprie famiglie in occasione delle festività natalizie. L'ultimo DPCM consente la mobilità tra le regioni per i ricongiungimenti fino al 20 dicembre prossimo. Poi, dal 21, ogni spostamento sarà limitato solo a casi legati al lavoro, salute e a comprovate motivazioni. Non sarà l'estato di marzo e aprile, ma il flusso di passeggeri atteso in aeroporti e stazioni dell'isola è consistente. Per questa ragione, la regione siciliana sta organizzando un piano di controlli straordinari e ha avviato una ricognizione nei principali scale aeroportuali dell'isola in vista delle misure speciali che saranno adottate con ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, dedicata ai rientri per le festività di fine anno. Sono già al lavoro le strutture commissariali per l'emergenza coronavirus di Palermo e Catania, che hanno effettuato una verifica presso le aerostazioni delle due città in cui si concentra la maggior parte del traffico aereo da e per l'isola. Al Falcone Borsellino è stata verificata l'area dello scalo palermitano dedicata ai testi rapidi per i viaggiatori in arrivo, uno spazio che potrà essere eventualmente implementato con altre postazioni. La stessa ricognizione è stata effettuata a Catania, presso il terminal C del Vincenzo Bellini, che già durante la fase 2 della pandemia è stato attrezzato per le verifiche anti-covid. Oltre ai punti di verifica allestiti negli aeroporti delle città siciliane e in tutto il territorio, saranno organizzati ulteriori drive-in dedicati, proprio a quanti faranno ingresso in Sicilia con altri mezzi per poter effettuare il tampone rapido. Tutti gli aspetti organizzativi e di profilassi promossi dall'assessorato regionale alla salute saranno posti all'attenzione e al vaglio degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico della Sicilia, prima che ogni iniziativa utile di prevenzione in vista della festività natalizia si traduca in una ordinanza del Presidente Musumeci.